Berlusconi mi ricorda che quando è morto Andreotti ha detto che Andreotti è stato sempre un perseguitato come lui, un politico perseguitato, l'unica cosa che c'ha, ah no, non è vero perché lui è già stato condannato a due anni, perciò non è che c'hanno questo di... Io mi ricordo che Andreotti era stato processato a Palermo per rapporti con la mafia mi sembra, sì, rapporti con la mafia per l'omicidio del giornalista Mimmo Pecorelli e altre cose, però non è mai stato condannato Andreotti, io ho sperato che prima di morire aprisse la scatola nera, invece no, se l'è portata con lui. Dio del blues, salvaci tu da tutte queste menzogne